Aspetta che scuso un nuovo video, oggi vi farò vedere come costruire una cosa in Minecraft Prima di iniziare, saluto Lucio Allora, facciamo qua Non modifichiamo niente Allora Ora andiamo subito a cercare di prendere tanta roba Ci chiamo qualcuno, prendiamo del legno E poi costruiamo la casa Andiamo a prendere quel legno che sta là, che già è andato buonasera Meglio che andava di giorno Perché è un po' casino Perché è un po' difficile per me quando sono lì zombie Tagliamo questo legno, insomma, come si chiama? Ora controlliamo subito come si chiama Legno di Acaia Ah, ma mi sa che è di quattro questo, è buono Ah, allora si prende il legno Ma quest'albero è pieno di me Ma sono due alberi Che strano Che stranissimo, due alberi Proviamo a strappare un pezzo Così qua lo prendiamo Eh, Acaia Perché a me ne ti rompe una qua? No, si, la si rompe Non ne sto prendendo di più Perché devo fare una casa decente Almeno Ma bene, potete prendere le culture Sbagliato Sbagliato, sbagliato Cioè, stavo per sbagliare Sbagliato Ah, ho sbagliato di brutto Tagliamo tutto Ecco, tagliamo l'ultimo Ehi, ecco. Ma ecco cosa va a fare questo. Direi che possono pure bastare. Ecco. Ora qua costruiamo la casa. Speriamo che i blocchi avanzano. Speriamo anche di non sbagliare più. Comunque non credo proprio che i blocchi bastano. Facciamolo un po'. Ok, leggermente grande. Ok. Vai qua. Lasciamo un po' così. Possiamo fare un po' della cucina. Così, così. Quanto l'abbiamo finito però qua che ho sbagliato. Facciamo qualche attorno. Facciamo un po' così. 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 si trappola da sola intanto visto che invece non andiamo a prendere l'altro legno ecco 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 togliamo questo speriamo che possa sì ma credo potete sì credo potete passano e prendiamo lì cerchiamo di fare anche il terzo piano basta e basta ok 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 dobbiamo muovere tra poco diventa notte arrivano gli zombi e ragazzi il video finisce qui e al prossimo video ciao